Musica Salve buonasera, sono Andrea Biagioni e oggi vi racconto la storia dello sviluppatore web che fa un lavoro apparentemente tranquillo, diciamo oggi andiamo a vedere proprio questo il suo lavoro è apparentemente tranquillo ma in realtà nasconde molte insidie e molte avversità noi andremo a vederla una per una di queste insidie e queste avversità e vedremo come Alias e come la nostra applicazione ha migliorato la vita del nostro sviluppatore web la prima avversità che il nostro sviluppatore web dovrà affrontare è il progetto mutante il progetto mutante terrorizza lo sviluppatore web e lo porta fino allo sfinimento ogni volta che deve realizzare un progetto il nostro sviluppatore web deve confrontarsi con tutte le modalità del progetto che gli arrivano infatti deve confrontarsi con quello che gli riferisce il commerciale, con quello che prepara poi il project manager con quello che il grafico progetta fino a doversi confrontare con l'idea iniziale del nostro cliente diciamo non c'è una cosa ben definita subito all'inizio poi deve vedersela con un altro problema, i browser i browser rispondono tutti a modo suo, una volta finito il progetto non c'è verso nessuno risponde in maniera uguale e dovrà affrontarsi con explorer, con safari non c'è speranza fortunatamente grazie al javascript che è un amico fidato del nostro sviluppatore riesce diciamo a mettere in riga i browser con l'utilizzo del javascript lo conosciamo tutti ma non è così simpatico javascript, si ribella e quando si ribella al javascript è veramente pericoloso lo sviluppatore dovrà affrontare anche lui e metti in mano il codice, metti in mano al javascript è veramente una guerra realizzare un progetto è veramente veramente difficile poi non è finita una volta sistemato il javascript c'è da pensare agli hacker questi si divertono a entrare nel nostro sito web del nostro sviluppatore trovano una falla e quando va bene ci mettano la bandierina altre volte cominciano a bombardare il lavoro del nostro povero sviluppatore che si trova costretto molto spesso a rimettere le mani a tutto il suo codice per una piccola falla che ha lasciato eccoci poi al lavoro sporco dello sviluppatore web l'area d'amministrazione i CMS è una disperazione non sa più come fare lo sviluppatore web e si trova lì di fronte ma poi il cliente che cosa vuole? il cliente vuole una cosa sola un bottone unico che faccia tutto un bottone fa tutto per favore ma come un bottone fa tutto? e non ce la fa è veramente una cosa impossibile lui cerca di fare le cose deve gestire tutto ma vuole un bottone unico il nostro cliente e poi una volta che ha finito il lavoro vuole che non abbia lasciato un bachetto il bachetto sta lì fermo non si muove il bachetto non esce fuori rimane lì nascosto zitto, fermo appena metti online il bachetto e no è una cosa terribile scusate e infine infine c'è la modifichina la modifichina è terribile perché si sbudella tutto è una cosa che io non sopporto la modifichina allora io vi dico signori ma era era ragionevole domandare aiuto magari era ragionevole domandare aiuto alias ha preparato Ariadmin Ariadmin è un CMS un CMS sviluppato con tecnologia Symfony che grazie a un sacco di plugin già programmati già sviluppati già integrati può fare quello che il programmatore ha sempre voluto i plugin li potete mettere in versione base oppure addirittura in versione avanzata il programmatore si trova davanti grazie a questa Ariadmin sviluppata in Symfony tutto quello che vuole si risolve finalmente tutti i suoi problemi il CMS è facile intuitivo potente lo fa lui il lavoro sporco non lo fa più lo sviluppatore lo sviluppatore installa i plugin e via e la cosa è veramente molto più semplice del nostro sviluppatore web e ovviamente riesce diciamo ad aiutare anche il lavoro del cliente è sicuro il CMS è sicuro è fatto in modo che le falle le unci siano quindi gli hacker sconfitti è sviluppato multi piattaforma multi browser quindi non dobbiamo più risviluppare venti volte la stessa applicazione perché uno vede in un modo o in un altro i baghetti il testing di Symfony chi lo conosce ci insegna che i baghetti si debellano una volta fatto il testing si lancia il testing se c'è un baghetto si becca il javascript è fatto interamente integrato con javascript lo sviluppatore è un amico fidato del javascript le modifichine le modifiche i cambiamenti il progetto che cambia il progetto mutante non saranno più un problema perché tutto è sviluppato pezzettino per pezzettino plug in per plug in ogni singola cosa va a toccare solo quella Ariadmin è sviluppato è fatto per il lavoro di squadra io sono Andrea Bagioni alias vi ringrazio per l'attenzione buona sera bravo bravo grazie a tutti i nostri spettino